La speranza diversa, affidabile, visibile e comprensibile perché fondata in Dio è quella che entra nel mondo con il Natale. Papa Francesco lo ha ricordato nella Catechesi dell'Udienza Generale in Aula Paolo VI. Sperare per il cristiano affermato significa la certezza di essere in cammino con Cristo verso il Padre che ci attende. Una speranza che ci fa camminare e che ci dona salvezza, ma è importante chiedersi, ha ribadito il Papa, se siamo davvero in cammino, se abbiamo un cuore aperto, se sappiamo di non essere soli in questo andare. E speranza è anche guardare il presepe, da Betlemme, la periferia scelta da Dio per Gesù, a Maria, madre della speranza e arca dell'alleanza, fino a Giuseppe che ha creduto all'angelo, fidandosi e obbedendo a Dio. Infine i pastori, gli umidi e i poveri che nel bimbo riconoscono il segno, ma anche il coro degli angeli che loda a Dio. Chi confida nelle proprie sicurezze, soprattutto materiali, non attende la salvezza di Dio. Ma mettiamoci questo in testa, eh? Le proprie sicurezze non ci salveranno. Le proprie sicurezze non ci salveranno. Soltanto la sicurezza che ci salva è quella della speranza in Dio, quella ci salva, quella è forte. E quella ci fa camminare nella vita con gioia, con voglia di fare il bene, con voglia di diventare felice per tutta l'eternità. Sarà veramente una festa, ha aggiunto il Papa, se accoglieremo Gesù, seme di speranza che Dio depone in noi. Ogni sì a Gesù che viene, è concluso. È un germoglio di speranza. Grazie. 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 Grazie.